Mancano solo tre giorni prima di scoprire chi sarà il prossimo eliminato del grande fratello VIP. Anche questa settimana il televoto è davvero avvincente dato che in nomination sono finite cinque personalità che si sono rese protagoniste, senza passare inosservate, all'interno della casa di Cinecittà. Infatti Raffaello Tonnonna, Cristiano Malgioglio, Jeremias Rodriguez, Luca Onestini e Giulia Delellis si contenderanno la permanenza nel gioco lunedì sera. Proprio il fidanzato di quest'ultima Andrea Damante, circa un'ora fa, ha postato un video nella sua Instagram Stories mentre guardava, in diretta, la sua dolce metà a parlare in giardino con Luca Onestini, permettendosi di dare un consiglio proprio all'ex fidanzato di Soleil. Se Luca falla allenare va a Andrea Damante ha voluto, ironicamente, suggerire a Luca di far svagare la testa della sua Giulietta dato che l'ex corteggiatrice, oggi, sta attraversando una giornata non proprio idilliaca. La Delellis confida al compagna d'avventura Onestini, con il quale ha legato molto, di aver trascorso quest'ultimi giorni con grande fatica all'insegna della noia e monotonia più totale. Per la fanciulla di Andrea il tempo sembra non passare mai e le attività da fare all'interno della casa del GFVIP sono sempre le stesse rendendo la vita all'interno del reality sempre più dura e mentalmente stancante. Luca Onestini non ha tardato ad assentire alle parole dell'influencer romana trovandosi pienamente d'accordo. GFVIP L'addio di quella che è stata la sua scelta all'interno di uomini e donne, in diretta televisiva e per di più per il suo odiato ex collega Marco Cartasegna, lo segnala ancora. Inoltre all'interno della casa del grande fratello VIP il rapporto di Onestini con alcuni dei suoi compagni si è crinato irreversibilmente. Basti pensare a quello che fu il rapporto iniziale con Jeremias Rodriguez archiviato definitivamente dopo una chiacchierata fra i due e ancora prima nominandosi a vicenda. In ultimo essere in nomination con quattro concorrenti temibili, tra cui la dolce metà di Andrea Damante, certamente non gli permette di star tranquillo, d'altronde è anche normale che sia sempre più dura dato che la fine è sempre più vicina e l'obiettivo della finale del GFVIP inizia a diventare sempre più reale.